Andrea Ponticelli, portavoce di Portere al Popolo Pozzoli. Insomma, si parla di bradisismo ma anche di affitti. Voi di Portere al Popolo avete fatto richieste, avete fatto delle note. Sì, perché nonostante ci sia stata una crisi bradisismica, nell'ultimo anno, d'agosto 2023 a agosto 2024, c'è stato un aumento degli affitti dell'8,7%. E questo trend corrisponde a un aumento, cioè in linea con un aumento degli affitti negli ultimi sei anni, negli ultimi sei anni è aumentato per esempio del 30%, che vuol dire in numeri che se una casa piena di 50 metri quadri costava circa 425 euro 6 anni fa, ora costa 550 euro. Ed è un aumento insostenibile per le persone che abitano a Pozzoli e che quindi sono costrette a spostarsi soprattutto dal centro città, perché nel centro città sono i quartieri in cui è aumentato di più. E quindi noi pretendiamo che ci sia, che si intervenga sia a livello di amministrazione sia anche a livello statale, ci sia una regolamentazione degli affitti e quindi che si imponga un tetto sugli affitti perché non si può speculare su quella che è un'esigenza primaria delle persone, cioè di avere un tetto sopra la propria testa perché non esiste vita senza casa, è impossibile vivere in questa società senza avere una casa e quindi pretendiamo che ci sia garantito il diritto alla casa anche quando questa si è affittata, quindi quando si vive in una casa di proprietà di altre persone.